Stai diventando grande, sai? Crescerò frettà, io non ne ho gioco, imparando io Caio, 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 caio Sono io! A lezione di karate Brum, brum Senti mamma, possiamo andare a giocare al parco? Magari un pochino più tardi, tutorial Adesso devo portare Rosie a lezione di nuoto Anch'io voglio andare a nuotare in piscina Ma oggi non veniva a trovarti Leo? Caio aveva dimenticato che oggi Leo sarebbe venuto a giocare con lui Evviva, oggi potrò finalmente giocare con il mio amico Leo Urra! A quanto sembra il nostro eroe ha una gran voglia di divertirsi Vado io? Caio corse a rispondere felice Perché era convinto che fosse il suo amico che lo avvertiva che stava per arrivare Pronto, Leo? Papà, corri, è per te! Grazie, tesoro Pronto? Oh, ciao! No, nessun problema, ne sono felice Penso io ad accompagnare Sara, presto Papà, Sara verrà qui da noi? Sì, ma non a giocare Sua mamma purtroppo ha un fortissimo raffreddore E quindi mi ha chiesto se più tardi la posso accompagnare io a lezione di karate A lezioni di karate? In guardia, Caio! Quella strana parola non mancò di stimolare la sua curiosità Ciao, Leo! Caio e Leo erano molto felici di poter passare una mattinata a giocare insieme E naturalmente non persero neanche un secondo di tempo Ma tu non sei Caio Io sono qui, mamma Siamo due orsi in una caverna Sara, tesoro Ma come mai hai ancora indosso il pigiama? Ma questo non è un pigiama È il mio kimono E lo indosso sempre alle lezioni di karate Ma che sciocco Sarò pronto tra un minuto Nel frattempo perché non vai a far vedere a Caio il tuo kimono Ciao, Sara Caio è in camera sua Ma mi raccomando, sta attenta Perché di sopra ci sono anche due orsi molto feroci Caio, sei tu qui sotto? Sara! Ciao! Oggi non mi fermo a giocare Il tuo papà mi porta a lezioni di karate Sono venuta a farti vedere il mio kimono Tu ti vesti così per fare karate? Aha! Guardate! Ha! Ho bisogno di libertà per fare queste mosse E il kimono è così comodo Il tuo papà pensava che fosse ancora il pigiama I due bambini rimasero molto colpiti dalla dimostrazione della loro piccola amica Sara! Io sono pronto! Adesso devo andare Ma se volete più tardi posso anche tornare a farvi vedere qualche altra mossa Sayonala! Che bello! La lezione di karate si rivelò un'occasione di divertimento per tutta la famiglia Caio aiuta il papà Che stai facendo papà? Sto preparando una lista delle cose che devo fare oggi E quali cose? Io vado a fare la spesa con Rosie Vuoi venire con noi Caio? No! Io voglio rimanere qui ad aiutare papà Grazie Anche io voglio il caffè Il caffè è un po' troppo forte per te Ma da oggi avrai la tua tazza personale Così puoi far finta di bere il caffè Grazie mamma A Caio piaceva moltissimo fare le stesse cose che faceva il suo papà Oh oh! Sono già le nove Sarà meglio che mi sbrighi Papà! Aspetta! Fammi dare un'occhiata a quella lista Sistemare la sedia e... Ah! E allora aggiungiamo anche preparare il pranzo Ecco fatto Ora puoi anche portarla a papà tesoro D'accordo Ciao! Ciao Caio! Torneremo presto A dopo! No! No Gilbert! Dammi subito quel foglio! Guarda questo Gilbert! Guarda che bello! Va tutto bene là sotto? Caio trovò che la faccia del papà faceva ridere insaponata in quel modo Insapona anche la mia faccia papà! Va a prendere la tua scaletta Ecco! E adesso che cosa devo fare? Che solletico! Io sono così buffo! Va bene E adesso che cosa succede? Puoi usare questo per togliere la schiuma Guarda! Mi sto facendo la barba anche io! Ehi! Ma mi stai forse imitando Caio? Gilbert! Gilbert! No! Aspetta signor vado di fretta Devi prima lavarti bene la faccia Ma Gilbert ha preso la tua... Non preoccuparti Potrei sempre riprenderglielo più tardi Ma la mamma aveva chiesto a Caio Di dare quella lista al papà Guarda! Quella è la prima riparazione La vedi questa? È la sedia dell'ingresso che si è rotta Ora basterà soltanto un po' di colla Posso farlo io? Mettine solo un po' Caio era molto fiero di essere riuscito ad aiutare il suo papà Salute! Questa sedia è impolverata Sarà meglio fare qualcosa Dovrai spolverare anche il tuo naso papà Eccola finalmente tornata al suo posto Abbiamo fatto proprio un bel lavoro Non è vero? Grazie anche a te Caio Io ho riparato la sedia, Gilbert Adesso leggo due minuti il giornale, va bene tesoro? A Caio piaceva molto fare le stesse cose che faceva il suo papà Lo leggo anche io, il giornale Allora, siamo pronti per tornare al lavoro? Certo! Dai, vieni con me Posso vederti, lo sai? Che cos'è questa? È una rondella Ecco, mettiamola qui Allora anche la mia rondella va qui Ottimo lavoro, vedrai che metteremo tutto in ordine in cinque minuti Il piccolo era così fiero di poter aiutare il suo papà C'è nessuno? C'è nessuno? Siamo tornate Mamma! Siamo in cucina! Caio! Caio! Papà! Anch'io voglio giocare! Papà! Mi dispiace, tesoro, ma questo è un lavoretto per persone grandi Sì, io sto aiutando papà Non è giusto! Buongiorno, ragazzi Che cosa mi hai preparato per pranzo, amore? Bulloni fritti? Pranzo? Gilbert! Rosy! Mamma! Mamma! Quella è la lista di papà Allora ecco spiegato tutto Aspetta un momento, tesoro Rosy sta cercando di fare qualcosa Papà! Rosy vuole aiutarci, Caio Papà! Tieni! Grazie, Caio Allora, vediamo Abbiamo fatto questo e anche quello Ehi! Il pranzo non era sulla lista di stamattina No, l'ho aggiunto io Coraggio, adesso mettiamoci tutti quanti al lavoro È mio! Oh! Ragazzi, guardate che bella fettina di pomodoro Il piccolo non si fece sfuggire l'occasione di imitare suo padre Ecco una bella fettina di pomodoro per mamma Ma a lui faceva piacere aiutare anche la mamma Grazie molte, Caio Grazie molte, Caio Grazie molte, Caio Il safari di Caio Una zebra Teddy, hai visto le mie carte? Ho capito Ho capito Ho capito a posto la scatola Caio era molto contrariato per il fatto di non poter giocare con le sue carte Tesoro, stai ancora cercando le tue carte? So dov'è nascosta la balena Sul serio, mamma! L'ho vista in bagno La caccia si prospettava molto divertente Dove poteva essere la carta della balena? Avviva! Eccola, l'ho trovata! Guarda che cos'ha! Grazie, Rosie È mia! No, Rosie! Queste sono mie! Caio non aveva intenzione di dare le sue bellissime carte alla sorellina In fondo ci stava giocando lui Caio! Che sta succedendo qui? Adesso è il mio turno di giocare con le carte Sbaglio? Ce ne sono ancora tante che mancano Sì, ma le ritroverò io E se ti aiutasse Rosie nel tuo safari? Avviva! Ma cos'è questo safari? È una specie di ricerca di animali rari da compiersi in luoghi molto pericolosi come la foresta Al bimbo piacque molto l'idea Al punto che decise di far finta che le carte mancanti fossero animali veri da cercare in tutta la casa Coraggio, Rosie! Partiamo! Partiamo subito per questo safari Guarda! Abbiamo trovato un serpente I fratellini presero la loro ricerca sul serio Ma dove si saranno nascosti gli altri animali? Si divertivano moltissimo ad imitare gli animali che trovavano in giro per casa Un coccodrillo! A Caillou piaceva imitare i coccodrilli perché erano animali grandi e molto forti Ragazzi, la cena è pronta! Ma i due bambini volevano assolutamente continuare il loro safari Andiamo, Caillou! Potrai continuare a giocare più tardi Ma io non sono Caillou! Adesso sono un feroce coccodrillo! Davvero? È proprio un peccato che stasera non ci sia Caillou perché la mamma ha preparato delle buonissime polpette Oh! Polpette! Aspetta papà, guarda che sono io! Sono Caillou! Caillou, il cowboy! Cloppite, 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 cloppite! Al galoppo cavalluccio più veloce! Salve, cowboy! Ciao, papino! Lo sai che il mio amico Jonas vive in un ranch e ha tanti, tanti cavalli? Ti piacerebbe conoscerlo? Ma lui è un vero cowboy! Puoi dirlo forte! Allora partiamo subito! D'accordo, ma partiamo domani mattina, va bene? Oh, che bello! L'idea di conoscere un vero cowboy era così eccitante che al nostro piccolo amico quella giornata sembrò non passare mai Vado a cercare Jonas Ecco, prendi queste carotine e ti faranno comodo più tardi Ma a lui non interessavano le carote A lui importava solo conoscere un vero cowboy Caillou, vedi? Questo è il mio caro amico Jonas Ciao! Allora, come va vecchio mio? Ti farebbe piacere visitare il mio ranch? Sì, magari! Caillou non aveva mai conosciuto un vero cowboy prima di allora e fu molto colpito da Jonas Grazie di cuore, bella signorina Credo che Rosie voglia cogliere qualche altro fiore Voi cowboy andate pure a fare il vostro giro Guarda, hai mai visto un laccio come questo, Caillou? Che forza Caillou rimase impressionato da quello che riusciva a fare Jonas con quel laccio Ti ho preso! Per fortuna l'abbiamo bloccato prima che ci scappasse Guarda la, Caillou Quanto è grande quel cavallo, non è vero? Quello è un pony, i cavalli sono molto più alti Adesso ne farò uscire uno dalla stalla Caillou non riusciva proprio a immaginare quanto potesse essere alto un cavallo Sta' attento, oggi piove fieno, piove fieno, Caillou Che cos'è? Quell'improvviso nitrito spaventò un po' il bambino Forse non gli andava che giocassimo con la sua colazione Davvero? No, Caillou, stavo solo scherzando Ecco, sta arrivando il cavallo, papà Caillou non riusciva a credere che un cavallo potesse essere così alto Ed era anche un po' spaventato Caillou, ti presento Lucky Coraggio, lo conosceremo insieme Ciao Lucky Secondo me gli sei simpatico Ehi, e queste cosa sono? Sono carote Lo sai che Lucky è veramente ghiotto di carote? Vuoi dargliene qualcuna? Magari Anche a me piacciono molto le carote Il primo dovere di un cowboy è quello di avere cura del proprio cavallo Ai, quanto è dura questa spazzola Serve così per strigliare bene il cavallo No Bel lavoro Adesso controlliamogli le scarpe Le scarpe? A Caillou sembrò strano che i cavalli avessero le scarpe Lo sai, a volte dobbiamo cambiarle Ed è per questo che ne ho sempre qualcuna di riserva laggiù Il bambino pensava che le sue fossero molto più comode L'hai sentito? Il nostro piccolo amico fece finta di andare a cavallo Più veloce cavallino Più veloce Più veloce Più veloce Più veloce Lo sai che mi hai fatto venire un'idea, giovanotto? Tu aspettami qui, voglio farti una bella sorpresa Perché non andiamo a chiamare mamma e Rosie In modo che possano vedere anche loro la sorpresa Mi chiedo dove sia andata a nascondersi la tua sorellina Soltanto un momento fa era qui Bubu sette te Che forza Ho pensato che non ti sarebbe dispiaciuto fare un giretto Tieniti forte, Caillou Coraggio, Rosie Rosie, no! Non aver paura, guarda Lucky è un cavallo buonissimo Aspetta, ho un'idea Lucky Si parte ragazzi Caillou capì che Lucky doveva essere molto forte per trainare un carro carico di gente Ti piacerebbe guidare, giovanotto? Sì, grazie Il nostro amico era un po' nervoso, ma ci teneva troppo a guidare quel bel carro Lo sto guidando io, papà, mi vedi? Ecco, adesso sembri un vero cowboy Hi-ha! Spero che ti sia divertito e questo è un ricordino Che bello, grazie A presto, giovanotto Ciao, cowboy Ciao, ciao Lucky Ciao, ciao Lucky Al galoppo, cavallucci, al galoppo Ecco, adesso prendi pure qualche carota Hi-ha! Ciao, ciao Ciao, ciao